Tutto pronto per l'insediamento della società AccorFenix nello stabilimento di Campo di Pile dell'Aquila che per anni ha ospitato il polo elettronico Fiore all'occhiello dell'Aquila negli anni del boom economico. All'avviso pubblicato dal Comune dell'Aquila infatti ha risposto la sola AccorFenix con un'offerta da quasi 2 milioni di euro. La società ora dunque potrà insediarsi nello stabilimento aquilano, già dal 2014 in realtà avrebbe dovuto iniziare la sua attività. La AccorFenix è una società che si occupa del riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenti ha parlato di un grande investimento per la città. Il capannone viene venduto a prezzo di costo proprio per spingere questa azienda ad insediarsi e arrestare. La vendita del resto è stata imposta dal finanziamento di Invitalia e dunque non si poteva procedere con un semplice affidamento. In realtà il Ministero dello Sviluppo ha già pronto anche l'avviso per affidare lo stabilimento ex FIMEC. Tutto dunque tornerà a nuova vita lì dopo anni di parole, chiusure e perdita di poste di lavoro. E a proposito di poste di lavoro ci saranno 128 assunzioni, tra questi molti ex lavoratori del polo elettronico. Un giro importante per l'economia aquilana piegata dal terremoto e dalla crisi. AccorFenix arriva ma deve restare. Unico paletto ma vincolante il fatto che debba tener fede agli impegni presi per almeno 10 anni, altrimenti secondo gli accordi stabiliti lo stabilimento tornerà nelle mani del Comune dell'Aquila.